Ci siamo scatenati tutti Ho trovato pane per i miei denti Sennò siamo cavati bene, con Gianni è stato un successore È stata una delle sirate migliori Iniziamo? Sì! Siete? Allora pronti ma... No, ferma Che successo? In realtà sta per partire un video che non è proprio quello del trenticiottesimo È un video che una persona speciale ha dedicato a te È una persona che aveva bisogno di dirti delle cose così importanti Al punto di dover realizzare qualcosa di veramente grande Per farti capire quanto grande è il significato di questo video Per te Floriana